Il dormitorio è un dormitorio che come lo scorso anno viene ospitato nei locali dell'amministrazione comunale e ovviamente grazie anche al supporto di altri soggetti del volontariato che fanno un po' da staffette insieme a Caritas come lo scorso anno e come due anni fa viene garantito il supporto da parte della Polizia Municipale e della Polizia Privata per garantire la sicurezza dei volontari che prestano questo importante servizio e come lo scorso anno e come due anni fa coloro i quali accederanno al dormitorio verranno in qualche modo inseriti in un percorso di formazione ma soprattutto verranno segnalati alla questura per capire se sono persone che scelgono di vivere fuori oppure se sono persone che scappano da situazioni diverse. Il servizio di accoglienza invernale sarà fruibile da tutte le persone maggiorenni senza fissa dimora che stanzionano nel territorio cittadino e provinciale. Sarà possibile accedervi tramite un pass personale che avrà una durata massima di 15 giorni e potrà essere rinnovato. Perché la nostra idea è che la vera vittoria è non avere dormitori. La vera vittoria è quella di fare sì che le persone che si trovano in periferia rispetto alla loro dignità, alla loro capacità di poter impostare una vita in maniera sicura anche per se stessi, si recchino ai servizi, facciano un patto con i servizi e allora vanno nell'accoglienza. Intanto, viste le temperature in calo nelle ore notturne, sono stati scoperti a pochi passi dalla città alcuni dormitori improvvisati e a cielo aperto. Nei scorsi giorni uno è stato segnalato sotto le scale del parcheggio del Tribunale e la scorsa settimana invece un altro nei fondi del Teatro Petrarca. Non nessuno per bisogno è costretto a dormire fuori. Certo è che però se non si vuole stare in percorsi di reinserimento, se non si vuole stare in percorsi di rigore e di sicurezza, insomma allora diventa un'altra cosa. Quindi l'appello a tutte le persone che hanno difficoltà è il seguente, chi ha bisogno si recchi presso i servizi sociali del Comune di Arezzo e troverà una risposta. Chi ritiene però di voler fare ciò che vuole, questa non è una città lassista, questa è una città generosa.